Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna per lavori ci sono 3 km di coda verso Firenze e rallentamenti verso Livorno. A Firenze per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di Piazza dell'Isolotto sono in vigore di vieti di transito nella piazza, da Via delle Hortensi all'Ungarno dei Pioppi e in Via dei Ligustri. Con il rientro a scuola anche per gli studenti delle superiori è in atto una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico. Aggiornamenti e approfondimenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800 57 05 30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!